Sono Alan, preziose creature. Noi da oggi in poi vi avvertiamo. Vi daremo alcune dritte e chi non lo fa, beh, peggio per lui e o per lei. Noi da questa dimensione vi osserviamo, vi abbiamo ammonito, vi abbiamo dato del tempo e o non poca pazienza abbiamo portato. Beh, allora, adesso la divina pazienza è terminata. O voi vi date una mossa, oppure, ah ma no, ma alleluia sì. Quante volte lo abbiamo ri, ri, ripetuto. Che non si dica che non siete stati avvertiti. Il Vaticano è il primo? Non solo. Ma tutti, tutti, tutti voi che ci seguite con cuore puro e o non, nel senso, se io ti dico, fai questo per il tuo e o altro bene, lo devi fare. Perché se così non è, adesso, e se dico adesso, è adesso, tutto, ma proprio tutto, precipiterà. Allora, qualche giorno fa ho detto al Vaticano e o non, non fate certe cose, oppure fate certe cose. Così non è stato. Ecco che Dio vi farà sprofondare all'inferno. Ricordate, Dante? Nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la retta via si era smarrita. Ora, voi che non ci avete ascoltato, nonostante tutti, ma proprio tutti i nostri richiami, in cui sei, beh, a voi il mio salario. È Dio che vi parla. A voi, sconnessi e o nulla facenti per Dio, cosa aspettate? Che Dio si infervori fino in fondo? Così sia. Amen no, ma all'eluglia sì Ho detto e ho ri-ri-ripetuto Ascoltate la vostra coscienza Perché non l'avete fatto? Ora è troppo tardi Parola di Dio Grazie